Patrizio del Barone, dirigente scolastico del terzo circolo didattico, dalla scrivania nel suo nuovo ufficio di via Dante Alighieri, nel nuovo plesso appena consegnato in coabitazione con la scuola secondaria Opromolla, dice la sua sul dimensionamento e sulle proteste sollevate all'indomani della ratifica della delibera di giunta, documento approvato dopo l'incontro tecnico dell'amministrazione comunale con i dirigenti scolastici delle scuole del territorio. Per quanto riguarda la protesta dei genitori, dei docenti e dei genitori della Galvanio Promolla, mi viene subito da dire che probabilmente avrebbero dovuto far sentire la loro voce non qui ora e ad Angri, ma prima e a Roma, quando è stato innalzato ed approvato il parametro ministeriale per riconoscimento e il mantenimento dell'autonomia scolastica, o quantomeno avrebbero dovuto sostenere con maggior vigore la battaglia del nostro governatore e dell'assessore regionale Lucia Fortini. Il numero, il parametro è un numero molto alto che mette in crisi le realtà scolastiche della regione Campania, ma soprattutto perché non trova riscontro con il tasso di natalità che in questi ultimi anni è crollato in maniera drastica. Ormai è noto, tutte le scuole del primo ciclo del comune di Angri, il terzo circolo, il primo circolo, la Galvanio Promolla, il don Enrico Smaldone, hanno una popolazione scolastica inferiore al parametro, alle 900 unità. I numeri non ci consentono di conservare le quattro autonomie, per cui si è resa urgente e necessaria la trasformazione e la riorganizzazione dei plessi scolastici. Io sono qui per manifestare, a nome della mia comunità scolastica, del terzo circolo, il pieno appoggio alla delibera della Giunta Comunale 156 in merito al piano di dimensionamento della rete scolastica cittadina, in quanto la logica che è alla base della delibera è una logica non di mera divisione, ma di opportuna trasformazione, prevedendo la nascita di due nuovi istituti comprensivi che andranno ad affiancarsi al secondo già esistente. Questa delibera è nata all'esito di un tavolo di concertazione in cui eravamo tutti presenti. Ero presente io con le mie colleghe, la dirigente della Galvanio Promolla, del primo e dell'istituto comprensivo. Erano presenti le sigle sindacali appositamente convocate per eventualmente tutelare i diritti del personale scolastico coinvolto. Ed erano presenti i consiglieri di maggioranza, ma anche di opposizione. Ebbene, la proposta è stata condivisa all'unanimità e senza riserve. Ed è legittima perché risponde alle raccomandazioni del Ministero, ai criteri della Regione Campania, che suggeriscono di privilegiare la nascita, l'istituzione di istituti comprensivi e di superare le direzioni didattiche. È una delibera precisa per quanto riguarda il coefficiente di calcolo, ma soprattutto è equa e giusta perché distribuisce la popolazione scolastica in modo, in una maniera di assoluta parità tra i tre istituti comprensivi. Ed è questo il presupposto che garantisce la stabilità nel quinquennio avvenire. Noi diciamo no alle proteste dei genitori e dei docenti perché fomentano un allarmismo pericoloso, ma soprattutto una cattiva informazione. Non è vero che non viene riconosciuto il diritto allo studio degli studenti. Al contrario, i nostri studenti potranno avvantaggiarsi di un percorso in continuità molto più lungo, ma soprattutto potranno conservare il loro corpo docente. Non mette in discussione la stabilità, la tranquillità, come è detto in questo documento, la tranquillità degli insegnanti della Galvanio Promol. Al contrario, l'alternativa che loro propongono, quella di assegnare il presto di via nazionale al primo circolo, beh, quell'alternativa creerebbe maggiori criticità e soprattutto situazioni di sovranumerarietà e perdita di posti di lavoro. Non è vero che la vicinanza degli istituti creerà una guerra fra le parti o meglio, come dicono, una guerra dei poveri. Al contrario, si avvertirà il confronto costruttivo tra le offerte formative e di questo non potranno altro che avvantaggiarsi i nostri alunni e godere di un'offerta formativa poliedrica e l'avanguardia che tenderà al miglioramento continuo. Anche noi perderemo il plesso di Via Lazio e siamo profondamente amareggiati, ma siamo chiamati ognuno di noi a fare la nostra parte con grande senso di responsabilità, senza visioni personalistiche e con il senso del dovere che ha sempre contraddistinto la nostra azione, nell'interesse prioritario dei nostri ragazzi e della nostra città.